Sono giorni di apprezzione per la famiglia di Lewin-Wetuschal, lo studente tedesco Erasmus scomparso sul Gran Sasso. La prefettura sta coordinando tutte le ricerche. L'ultimo avvistamento del giovane che studiava nella Facoltà di Scienze Forestali di Padova con l'Erasmus appunto risalirebbe allo scorso 16 agosto. L'escursione invece sarebbe del 9 agosto quando avrebbe mandato una foto alla sua famiglia. A cercare il giovane ormai da giorni sono carabinieri, polizia, vigili del fuoco, volontari di protezione civile e unità cinofile. In volo ci sono anche droni ed elicotteri. Si era diffusa la notizia del ritrovamento dello zaino del giovane in località Calderone ma si è capito poi che non apparteneva allo studente. A diffondere la notizia è stata Alessia Natali, presidente dell'associazione Penelope che si occupa da anni di persone scomparse e del supporto ai familiari. Questo ha spento molto delle speranze ma le ricerche continuano senza interruzioni. L'ultimo avvistamento sarebbe proprio vicino Monte Camicia, però la zona in cui si sta cercando è molto più vasta. A smentire la notizia che lo zaino trovato dai vigili del fuoco fosse sue, sono stati direttamente gli amici del ragazzo che stanno partecipando come volontari alle ricerche sul Gran Sasso. L'ultimo contatto con la famiglia, come si diceva, risalirebbe proprio a quando è stata spedita la foto dell'escursione con il telefonino del giovane. Lo studente al momento della scomparsa pare indossarsi un pile blu. A lunghi capelli, occhi castani, parla bene l'inglese. Per quel che riguarda lo zaino trovato a Monte Camicia, è stato un ragazzo in escursione a segnalarlo alla questura, ma poi è stato ritrovato anche il suo proprietario. Gli amici e la famiglia stanno vivendo queste ore con il fiato sospeso nella speranza di trovarlo il prima possibile. Se ne sta occupando anche la trasmissione di Rai Trecchi, l'ha visto. Le ricerche non sono facili, si tratta di sentieri impervi e rocciosi, per questo si sta lavorando molto con l'ausilio di elicotteri e droni, come si spiegava. Parallelamente proseguono le ricerche di Paolo Benzo, il pensionato scomparso da Rocca di Cambio. Le speranze per lui sono vive perché nei giorni scorsi sarebbe stato notato da un passante in via Anticarischi a Pettino. Probabilmente l'uomo ha perso la via di casa lo scorso 29 luglio, avrebbe continuato a vagare fino a raggiungere il capoluogo. Da allora però non si hanno più notizie certe.